ciao ragazzi da vittorio un video breve di emergenza perché sembra fatta lazzari alla lazio hanno trovato gli accordi i presidenti di lazio e spal ma prima se sei un tifoso della lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra capitale per cui clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che ricevono le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video torniamo a parlare di lazari perché sembra fatta la lazio ha trovato l'accordo con la spal trattativa lunga direi come tutte o quasi quelle di gladio lotito quindi lazari alla spal la cosa importante da notare il prezzo perché insomma all'inizio stavamo dicendo che la spal volesse valutasse lazari quasi 22 milioni di euro perché voleva 15 più murgia e invece la trattativa lunga estenuante la lazio ha già l'accordo col giocatore che era io ho detto interessato a venire a roma abbiamo anche detto un video precedente che quando le parti sono sostanzialmente d'accordo prima o poi l'accordo finale si trova avevamo detto che la lazio voleva fortemente lazari per accontentare simone zaghi la spalla aveva capito che ormai il giocatore ha bisogno di una sfida più importante di una squadra più prestigiosa come la lazio e quindi era entrata nella mentalità nel ragionamento di idee di lasciarla andare e bisognava solo trovare con dell'accordo la spal voleva fortemente murgia la lazio non era così intenzionata a lasciare andare murgia e anche la valutazione iniziale di lazari sembra un po troppo alta 22 milioni di euro onestamente mi sembrava un po eccessiva ecco a furia di tirare 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 la corda per fortuna non si è spezzata questa era la mia più grande preoccupazione immagino anche di tutti voi e alla fine si è trovato l'accordo si parla di 7 8 milioni di euro alla spalla più murgia per cui capite che una valutazione molto inferiore rispetto a quella che sembrava dovesse arrivare alla lazio per prendere murgia insomma lazari non murgia murgia ovviamente andrà via c'è da c'è da scoprire se come detto in molti c'è un ricompra da parte della lazio per murgia però la spalla teneva molto al giocatore murgia sapeva anche che a roma avrebbe giocato pochissimo per cui lui era interessato a lasciare roma e andare ad affermarsi alla spalla ferrara dove probabilmente può giocare con continuità insomma fine anno era diventato ormai un titolarissimo della spalla stava giocando anche molto molto bene lazari arriva a roma e va a coprire un buco piuttosto evidente perché romulo non era stato confermato a roma e sulla fascia destra la lazio era solo marosic e era necessario fortemente necessario un esterno destro da da comprare quest'anno arriva lazari che è un giocatore che in zaghi voleva fortemente perché lo voleva fortemente uno perché bravo due perché può giocare in varie posizioni è vero che nella spalla gioca un 352 esterno di centrocampo ma può anche giocare adattarsi una posizione è una difesa 4 conosce benissimo calcio italiano ed era una delle più grandi richieste di simone in zaghi in zaghi ed è qua perché io critico un po l'acquisto di vavro perché in zaghi ha chiesto giocatori già pronti per il campionato di serie a e se arrivi dal campionato danese non sei pronto per la serie a comunque invece lazari è prontissimo gioca in italia da sempre essendo italiano conosce benissimo la serie a non solo ma ha giocato molto molto bene in serie a e quindi era uno dei giocatori che in zaghi chiedeva con insistenza perché era il giocatore perfetto per il per il suo tipo di calcio arriva a destra dove la lazio ha una grande necessità ovviamente il fatto che la lazio non avesse rinnovato romolo era un segnale in questa prospettiva che la lazio sarebbe andata all in con lazari alla fine bisogna dire che con la tenacia di lottettare di spingere la spalla più possibile si è trovato un accordo tutto sommato molto vantaggioso per la lazio perché 8 milioni più murcia direi che è una cifra che è accettabile per lazari è vero lazari 26 anni quindi sta nella fase migliore della sua carriera probabilmente ancora non ha raggiunto l'apice può ancora migliorare tanto un giocatore esperto un giocatore forte per la serie a per cui un ottimo acquisto per la lazio perché va soprattutto a tappare uno dei buchi più grandi in questa rosa della lazio ovvero l'esterno destro maruzic probabilmente sarà un'alternativa una riserva o comunque partirà dietro lazari evidentemente però insomma con la lazio impegnata in europa league e in coppa italia credo che ci sarà ampio turn over anche lì però credo che lazari come titolare offra quelle garanzie che maruzic finora non ha garantito insomma un buon acquisto in chiave futura che fa sicuramente ben sperare per la lazio finalmente uno dei tormentoni che si è chiuso per quanto riguarda la lazio in modo positivo ciao alla prossima ciao grazie per aver guardato il video sino in fondo se ti è piaciuto clicca il bottone like se clicchi il mio logo ti puoi iscrivere al canale se non sei ancora iscritto qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente se ti piace la mia maglietta invece trovo il link in descrizione ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account ok ciao alla prossima